ciao a tutti voi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la vetrina dell'auto stasera la rosi purtroppo non è con noi ma cercherò di sostituirla nel miglior modo possibile vi do il benvenuto qui a verano brianza in compagnia di paolo buonasera a tutti e invece io faccio le veci di monza non dobbiamo certo dimenticarci i nostri colleghi all hybrid village e dei nostri colleghi a bellusco city motors come concessionario ufficiale toyota e cerca ha cercato di venirvi incontro e di coprire il territorio nel miglior modo possibile quindi che voi siate comodi qui a verano come punto vendita nuovo e usato e centro assistenza che voi siate comodi a monza come punto nuovo centro assistenza oppure vogliate andare a bellusco sempre come punto nuova assistenza o andare a cercare quello che è un ibrido usato quindi non solo nuovo anche ibrido usato hybrid village è il posto che fa per voi quello a monza in via dell'industria 47 noi qua oggi cercheremo di spiegarvi qualche piccola perla di toyota di questo mese e vi aspettiamo numerosi nei nostri saloni per farvi conoscere e provare le nostre vetture partiamo con toyota chr l'auto iconica del momento e che incarna lo spirito toyota questa vettura qua è un full hybrid 1840 cavalli oppure la versione più potente 2000 da 200 cavalli oppure un full hybrid plug in da 220 cavalli in questa terza versione è la macchina che dobbiamo un pochino ricaricare alla colonnina ma con delle batterie piccole che facili da ricaricare e nel momento in cui si scarica la batteria per la viaggiare totalmente in elettrico possiamo contare sempre nella tecnologia full hybrid di toyota per salvare quello che il nostro portafoglio e andare ad avere consumi molto molto bassi la vettura parte da 29.950 euro per tutti non ho bisogno di rottamare una macchina non ho bisogno di incentivi non ho bisogno di nulla è un'offerta che toyota da a tutti i suoi clienti proprio per non lasciare escluso nessuno e nella versione base il cliente toyota avrà come al solito tutto quello che è la sicurezza disponibile parliamo di una sicurezza avanzata che toyota è in continua evoluzione anticollisione rinnovato con un range migliorato e che riesce a gestire situazioni sempre più complesse il blind spot monitor quindi l'angolo cieco negli specchietti disponibili su tutte le versioni e poi tutta l'assistenza alle guida dal mantenimento corsia al cruise control adattivo alla lettura dei cartelli stradali all'attenzione a pedoni biciclette non solo mentre vado ma anche mentre parcheggio quindi o mentre devo uscire dal veicolo la macchina dice attenzione arriva qualcosa stai attento capite che una tecnologia così toyota la dà a tutti indipendentemente dall'allestimento che scegliate e poi chiaramente andremo a configurare insieme la versione che più che più vi piace ricordatevi una cosa queste macchine vanno provate vanno provate e bisogna capire fino in fondo questa tecnologia è una macchina semplice non è complicata adesso cosa devo fare la ricarico non la ricarico no mi siedo e guido è una macchina cambio automatico ed è una macchina che punta ad essere il più confortevole possibile proprio con la test drive accompagnati da noi che vi accompagneremo e vi spiegheremo le nostre macchine potrete gustare appieno queste vetture e capirne la bontà e come mai hanno dei consumi così bassi e poi insieme andremo torneremo a configurare le vostre macchine da vedere anche le altre e adesso siamo passati alla vettura più venduta nel mese di marzo è anche la vettura più venduta in assoluto perché il nostro segmento b yaris cross sta riscuotendo un successo altissimo affidabilità sicurezza attiva e passiva di ultimissima generazione la vettura vi dà tutti i comfort a partire anche dall'allestimento di base l'entry level è la versione active per arrivare alla top di gamma che è la premiera arricchita oggi sulle versioni top con motorizzazioni un pochettino più potenti dal 115 cavalli che avevamo precedentemente che abbiamo ancora assolutamente sì e sono praticamente i motori di maggior successo per quello che riguarda invece i 130 cavalli sui top di gamma di conseguenza i top di gamma avranno qualche cavallo in più una coppia migliorativa ma fondamentalmente i consumi e le caratteristiche di prodotto sono sempre migliori del mercato sempre cambio automatico su tutti i nostri modelli perché sui nostri full hybrid abbiamo solo questo bellissimo cambio e questo ci servirà ad avere un ottimo utilizzo da parte dei due motori che collaborando insieme fino ad altissime velocità fino a 130 km orari porteranno ad avere dei consumi altissimi oppure bassissimi a secondo di come si vedono le cose però fondamentalmente sono le migliori vetture e quelle che consumano meno si ricaricano da sole hanno un'autonomia altissima serbatoio piccolo ma mi consente di risparmiare tanti quattrini tantissimi soldi e di conseguenza non è male grazie alle nuove disposizioni date da toyota la garanzia addirittura si protrae su tutte le vetture toyota e non solo sulla yaris cross di conseguenza anche sulla chr che appena parlato il mio collega che la vettura del momento per quello che riguarda la nostra garanzia addirittura è di 15 anni di conseguenza basta fare le manutenzioni corrette una volta all'anno ogni 15 mila chilometri per avere questo bellissimo servizio da parte di toyota per quello che devo quello che vi posso dire sulla vettura parla da sola si vende da sola tra virgolette e ci sono dei sistemi di vendita bellissimi che ci aiutano a vendere quest'automobile abbiamo di sistema easy next che è un sistema di rateizzazione della vettura con mini rate pacchetti assicurativi al loro interno addirittura la formula di noleggio col nostro kinto che ci dà l'opportunità di avere il nostro cliente con un'assistenza totale toyota con dei costi migliori che la che prodotto che la chiedo scusa che l'assistenza toyota vi possa offrire di conseguenza state tranquilli con toyota siete sempre dormirete sempre tra due guanciali come dico sempre io yaris cross è la macchina del momento vi ringrazio e passiamo ad un'altra auto vettura accennava il mio collega ai sistemi di pagamento toyota easy noleggio leasing sono tutti sistemi che utilizza toyota per garantirvi il miglior costo di guida si parte proprio da quello che è la valutazione della macchina per darvi un valore garantito e quindi darvi una garanzia di mercato da qui ai prossimi anni e questo toyota lo fa in maniera egregia da tanti anni provate andare ad acquistare un'auto usata toyota e andrete a vedere come mantiene bene il mercato questo grazie al prodotto alla sua garanzia ma soprattutto grazie alla bontà e l'affidabilità dei suoi motori questo permette a toyota di proporvi e garantirvi i costi più bassi che questi segmenti possano darvi capite che una macchina come yaris full hybrid 115 cavalli active faccio un esempio è nell'allestimento base con anticipo di 5000 euro vi potrebbe essere vostra da 129 euro al mese questo vi darà la possibilità poi al quarto anno di scegliere se tenerla cambiarla o riscattare la vettura perché non subito ma tra quattro anni perché non è una scelta che dobbiamo fare oggi e non sappiamo neanche noi se sia la scelta migliore quella di cambiarla quella di tenerla ma sarà il mercato dircelo tanto più conveniente sarà cambiarla tanto più la cambierete se invece il mercato ci dirà magari guidiamo un altro anno ecco che avremo tutti gli strumenti per gestire quello slittamento temporale e se invece l'esigenza sarà quella di riscattarla perché dovete darla un familiare un vostro amico avrete la facoltà di farlo quindi non è una decisione che dovete fare oggi ma che vedremo assieme tra quattro anni ma nel frattempo potrete guidare la miglior vettura ibrida del momento al miglior prezzo possibile sempre per parlare di modi d'acquisto toyota e di servizi toyota per il cliente mi preme parlarvi di kinto il noleggio a lungo termine di toyota che oggi si estende anche nella sua versione flex e join cioè un noleggio che può essere sia mensile che settimanale e per fare questo abbiamo un ufficio dedicato una persona dedicata che parlerà alle aziende di tutti i servizi di cui avranno bisogno e di un'altra persona dedicata che gestirà il noleggio a breve termine che in questo caso vi seguirà nel poter noleggiare le nostre vetture e prenderle kinto è una grande famiglia che abbraccia tutti questi aspetti ma soprattutto nasce come noleggio a lungo termine quindi un servizio che include tutto rc auto manutenzioni cambi gomme casco senza guardare alla classe di merito senza guardare alla tipologia di di acquirente ma semplicemente facendo una distinzione tra privati e aziende e proprio a queste ultime mi voglio rivolgere per andare a guardare ad analizzare con voi il vostro parco auto e cercare assieme se possibile di darvi un beneficio da questo punto di vista grazie ai nostri consumi grazie ai nostri prodotti grazie alla nostra bassa manutenzione con canoni chiaramente molto competitivi chiamateci e se non volete essere voi a venire in azienda saremo noi che fisseremo un appuntamento e vi verremo a trovare nelle vostre sedi perfetto siamo arrivati agli sgoccioli di conseguenza alla fine ma non dobbiamo dimenticarci del nostro gioiello del suo segmento il segmento a di riferimento che è la nuova i go x la i go x è un suv è un crossoverino dove abbiamo la possibilità di avere il doppio cambio cambio manuale e cambio automatico la vettura eccezionale in tre metri e 70 centimetri c'è tanto spazio perché un segmento a prima non aveva queste misure noi invece le abbiamo create pensate che con le nuove formule di pagamento in questo caso sistema easy la si può portare a casa addirittura con un 119 euro al mese venite a trovarci siamo arrivati agli sgoccioli marco mi ha raggiunto e siamo i saluti di conseguenza dobbiamo ricordare le nostre sedi quella di verano che questa che invia comasina al numero 101 la nuova sede quella di monza in via borgazzo 87 la sede storica sempre vi aspetto io i miei colleghi per quello che riguarda la filiale di bellusco che invia circonvallazione al numero 18 e il centro dell'usato l'hybrid village sempre a monza in viale dell'industria 47 lì vi aspettano marco enrico ciao a tutti vi aspettiamo buona serata grazie buona serata ciao grazie a tutti